eccoci qui facciamo un secondo aggiornamento su acquistare cripto valute su revolute in questo periodo si sono mossi proprio questo libro cripto valute specialmente il bitcoin ha fatto una salita una discesa fuori di testa insomma ci sono stati molti molti movimenti avevo investito 50 euro nelle in queste cripto valute tutte le cripto valute che aveva e revolute e quindi avevo messo 10 euro per ogni cripto valuta e adesso andiamo a vedere bene o male la situazione come come sta andando ci sono stati degli alti dei bassi poi dopo io non ho venduto non ho fatto niente perché aspettavo proprio di farlo con voi in dire quasi in diretta insomma farvi vedere un po come era la situazione e andiamo a vedere un po vedete la schermata nera perché mi chiede l'impronta digitale nel frattempo l'app di revolute si aggiornata sono cambiate un po le funzioni non si fa in tempo a capire un po il funzionamento della dell'app e via che ce la cambiano qui ci sono varie varie impostazioni adesso non sto a andare a vedere tutte comunque per andare lo vedete in basso sulla sinistra di colore blu e quella che è in questo momento attivato poi andiamo diciamo sul grafico che possiamo andare a vedere sulle azioni quindi c'è compravendita senza commissioni qui ci sono per investire in altre in altre azioni quindi le cripto i prodotti vedete qui c'è anche la possibilità di acquistare anche oro partendo da da un euro e qui salva da na e poi andiamo avanti qui c'è invia denario all'istante quindi ci sono vari modi bonifico bancario dividere il conto pagamenti ricorrenti programmati link di pagamenti poi l'altro è la i dati della della mia carta che non vi sto a far vedere e poi quest'altro sono diciamo il portafoglio dove io ho inserito mostra di più ho inserito qui potete inserire la vostra valuta che preferite io ho messo c'è bitcoin euro sterlina e dollaro statunitense qui vi faccio vedere dove c'è azioni perché mi è stato anche suggerito da da un utente e dove possiamo andare a modificare cancellare quei quegli avvisi sulle criptovalute so se vi ricordate quando siamo andati quando noi siamo sulle sulle cripto esempio su light con noi possiamo qui tassi vedete qui sotto o gli avvisi dove io avevo impostato quindi noi qui ecco qui diciamo che è fatto un pelino maluccio è per semplificare era meglio farlo tutto qui all'interno di di questo in questa parte cioè dove io posso mettere gli avvisi sui prezzi potrei anche eventualmente cancellare gli avvisi sui prezzi no invece mi devo andare a complicare la vita devo andare qua dietro adesso se poi lo ritrovo me lo ricordo visualizza tutti no allora aspetta è dove ero dove ero no ero di qua aspetta qui ero qui quindi nell'ultimo qui in basso sulla destra invece scritto sp sp perché gli iniziali del mio nome il cognome voi magari avrete ne avrete un altro azioni o e qui posso o aggiungere all'azione qui quindi posso selezionare con quale avviso dei prezzi su quale cripto moneta oppure da di qui potremmo andare vedete in basso mi fa vedere perché avevo messo un allarme quando ethereum toccava i 210 euro infatti mi è arrivata una notifica e poi si è automaticamente si è eliminata io questa la potrei anche andare a cliccare fare elimina e così la cancello questo qui anche per le altre le altre due che ho già selezionato quindi questo diciamo è il modo per andare a cancellare i nostri i nostri allarmi che avevamo inserito su revolut sulle nostre cripto monete un'altra cosa molto interessante è questa qui se noi andiamo su azioni sempre e facciamo aggiungi azioni clicchiamo su cambio valuta automatico questo è molto interessante perché invece come gli allarmi no possiamo mettere gli allarmi ci deve avvisare una cosa un'altra se invece non ci vogliamo far sfuggire quel momento che magari avevamo già deciso da prima che volevamo come avevo messo io qui 210 euro di valuta del dell'ethereum e decidevo di volerli vendere in quel momento stesso che arrivavano a quella cifra andando sul cambio valuta automatico cosa possiamo fare andiamo a impostare facciamo ad esempio altro abcd ethereum eccolo qui ok allora io vedete adesso è il valore 207,98 io qui posso fare tipo quel quell'allarme quell'allert che avevo messo prima però non arriva la notifica ma eseguirà direttamente l'operazione come ho detto prima impostiamo il target qui ci avvisa che ci potrebbero essere quindi se imposti un valore target per la valuta selezionale del cambio verrà eseguito automaticamente quando il prezzo raggiunge il target utilizzeremo il miglior tasso disponibile ma come noi il tasso di cambio in continua evoluzione questo significa che al momento dell'esecuzione del cambio automatico potrebbe essere lievemente diverso dal valore del target e qui poi fa specifica un po le cause che possono influire su questa cosa che hanno detto quindi magari se non c'è il saldo insufficiente limite del cambio giornaliero l'importo massimo della transazione vabbè qui sono 15 mila euro e magari se abbiamo il conto bloccato e vabbè la volatilità del prezzo noi clicchiamo su ho capito qui mettiamo quindi il valore in questo caso io potrei mettere 210 euro e poi faccio imposte target adesso non lo faccio perché non mi interessa vendono in quel momento lì e sotto mettiamo la valuta che noi vogliamo quindi che arrivi in quel momento quindi ethereum se arriva a 2 c al valore di 210 euro me li deve convertire in automatico in euro questa è una cosa molto molto interessante lo possiamo fare con le cripto monete o il valore con tutti gli altri valori cioè possiamo anche farlo da valuta valuta quindi noi possiamo mettere anche euro qui e qui possiamo noi facciamo su altro e come vedete qui ci sono tutte le altre monete potete mettere il dollar potete mettere la valuta che volete molto molto interessante questa cosa o andiamo a vedere quindi la situazione delle cripto valute facciamo un passo indietro siamo qui eccolo qui allora vedete la light con 9 63 se vi ricordate quando ho acquistato i 10 euro per ogni cripto valuta tolta le tasse e erano a 9 euro e 68 e come vedete questo via vai che c'è stato con queste cripto valute in queste tre settimane un mesetto non sono mi ricordo quante due tre settimane alla fine sono diciamo con light con sono sono lì quindi light con e bitcoin cash 9 63 9 66 ethereum è quello che sta andando meglio di tutti quindi sta guadagnando di più invece bitcoin è quello che quello che sta perdendo di più tra tra tutte le cripto valute 9 e 12 ripple 9 18 anche anche lui quindi quello che voi vedete comunque già è la cifra che voi vedete sono già comprese di tassa cioè nel senso se io dovesse andare ad acqua a vendere queste cripto valute io prenderei percepirei quella cifra lì perché sono già comprese almeno su rel volute sono già comprese di hanno già tolto le tasse quindi se io vado a vendere ethereum 10 74 io mi prendo quei 10 74 quindi diciamo la situazione è questa qui ethereum è quella che sta guadagnando di più rispetto a tutte le altre cripto valute specialmente su su bitcoin questo diciamo che c'è un guadagno di questi 75 centesimi naturalmente sono cifre che fanno ridere ma sapete è proprio giusto per farvi vedere un po bene o male il funzionamento niente quindi non vi sto a spiegare tutta l'app tutti gli aggiornamenti del dell'app dire voluto perché veramente ci vorrebbe tantissimo poi molte cose io non è che le conosca e io le vedo poi sapete le cose si conoscono quando si utilizzano poi a volte voi mi chiedete anche determinate cose ma io non è che conosco tutto di tutto ok io bene o male si spattacandoci allora quello che posso darvi dei consigli quindi su cose che io ho già utilizzato vi posso dare dei consigli vi posso dire anche qualche cosa e qui subentrate voi perché la cosa bella anche perché ogni tanto capita le vedo nei commenti tra di voi vi potete anche già quindi qualcuno che sa determinate cose leggi delle domande di altri utenti può tranquillamente segnalarli e fa solo una cosa gradita insomma a me anche le altre persone e poi naturalmente potete anche correggermi se ci dovessero essere essere anche delle o delle piccole imperfezioni quindi qualche errore che che ho detto oppure come mi è stato fatto notare di come si andavano a cancellare queste azioni anche se poi è cambiato tutto l'app si è aggiornata quindi cambiato tutto però bene o male dopo sono andato a a vedere qual era il meccanismo sono andato a cercarlo io e comunque è sempre cosa gradita allora sinceramente mi piaceva più la visualizzazione di prima probabilmente è l'abitudine che si ha però adesso lo vedo c'è stato diviso diviso molto queste queste cose qui io mi trovavo meglio prima ad esempio adesso vabbè sono sulle cripto mi fa vedere il totale del valore in euro delle cripto che io ho investito quindi questo totale qui mi viene riportato qui 48 28 prima mi faceva allora facciamo mostra tutto qui niente qui mi fa vedere il convertitore queste sono quelle di prima no prima mi faceva vedere adesso dovrei andare a cercarlo ancora mi faceva vedere il portafoglio totale probabilmente sarà da qualche parte però adesso batte la pesca devo andarlo a riguardare dove cavolo e poi mi faceva vedere il mio portafoglio quanto avevo quindi sia di dollari euro e il valore in quel momento delle criptovalute adesso non lo vedo più ma ripeto probabilmente sempre un'abitudine che dobbiamo avere io però ripeto preferivo prima bene ragazzoli io direi che con questo è tutto noi ci vediamo nel prossimo video vi ricordo che i video io li posterò sempre quando ci sono dalle ore 21 quindi quando saranno online anche se le faccio la mattina la mattina presto come in questo caso così però andranno sempre dalle ore 21 solitamente non li posto sabato e domenica vi lascio stare diciamo da lunedì al venerdì se proprio non c'è un qualche cosa di particolare allora che magari una cosa urgente da dirvi allora probabilmente potrei uscire anche o sabato e domenica altrimenti da lunedì a venerdì dalle ore 21 mi raccomando quello che dovete fare è cliccare anche sulla campanellina oltre a esservi iscritti allora voi che vi siete iscritti andate a guardare nella notifica se avete attivato tutte le notifiche dalla campanellina per ricevere ok il messaggio di notifica quindi quando arriva il video va bene ragazzoli con questo è tutto io vi saluto nuovi ricchi iscritti di solito saluto è un abbraccio di nuovo bene ciao ciao da te ciao